Io penso che uno dei potenziali limiti dell'Accademia sia quello di vivere in una bolla e di non arrivare veramente, non comunicare davvero il valore di quello che facciamo in modo fruibile. E qui è bellissimo perché avviene un movimento nella direzione opposta, cioè le persone capiscono il valore di quello che facciamo e fanno un'azione concreta per effettivamente supportarlo e noi siamo la dimostrazione insieme agli altri due, all'altro ragazzo e l'altra ragazza, che questa cosa ha funzionato. Noi tutti i giorni andiamo al lavoro col sopporto delle persone che hanno partecipato alla corsa. Sarà il 5 marzo, sarà un'occasione per fare un po' di sport, stare tutti assieme e fare qualcosa di importante per dare otto il cancro.